Buongiorno ragazzi, oggi è martedì e siamo prontissimi qui a CrossFit Perugia per un altro workout del giorno. Inizieremo con 3 round not for time di 15 cal bike, 10 PVC shoulder presses e 10 V-up, così da iniziare a muovere tutto il corpo. Il lavoro che dobbiamo fare oggi, prima del workout, è il lavoro di strength, quindi dovremo trovare in 10 minuti il massimo carico di 5 clean and jerk touch and go. Dovremmo fare un ramping per arrivare ben caldi preparati per questo tipo di lavoro ed evitare il più possibile qualsiasi tipo di infortunio. Al seguito avremo il workout del giorno, un bellissimo benchmark, in questo caso Glenn oggi, in cui dovremo fare 30 clean and jerk con 60 e 40 kg, un milio di corsa, 10 rope climb, ancora un milio di corsa e 100 barpees. Naturalmente, come sempre, avremo advanced, intermediate e beginners, quindi ognuno di voi dovrà scalare il workout in base alle proprie capacità. Mi raccomando, scaldatevi molto bene, preparate l'alternativa per la rope climb, che potrebbero essere delle semplici trazioni alla corda con i piedi a terra. Mi raccomando, scaldatevi molto bene, preparatevi molto bene, preparatevi molto bene, preparatevi molto bene.